ciao a tutti oggi parliamo di maschere di livello le maschere di livello rispetto alle maschere semplici sono un modo alternativo per ritagliare i livelli e in certe situazioni sono sicuramente più efficienti delle maschere semplici quindi incominciamo la composizione l'ho già creata e aggiungo nella composizione un paio di fotografie una e la riduco e la metto qui a sinistra e poi una seconda la metto a fianco qui a destra uso due fotografie perché voglio mettere un po a confronto i due modi per mascherare i livelli sulla prima fotografia cioè questa di sinistra applico una maschera semplice come quelle che abbiamo usato nelle lezioni precedenti quindi seleziono la foto vado a scegliere una forma per mascherare il livello e scelgo una forma ellittica e poi disegno un'ellisse in questo caso intorno al volto del personaggio e ho creato una maschera semplice direttamente sul livello qui nella timeline la vediamo si chiama mask 1 adesso disattivo tutti i livelli quindi clicco in uno spazio vuoto della timeline niente più selezionato e disegno separatamente dalle fotografie uno shape layer a forma ellittica quindi prendo di nuovo l'ellisse e disegno un'ellisse qua sopra la seconda fotografia più o meno in corrispondenza del volto del secondo personaggio bene quindi ho un livello a parte che è uno shape layer adesso io voglio utilizzare questo livello per ritagliare la seconda fotografia e per fare questo devo fare in modo che l'ellisse come livello si trovi appena sopra la fotografia che voglio ritagliare la fotografia è questa Ingrid Berman sopra la fotografia c'è il livello quindi è già nella posizione giusta a questo punto nella timeline a fianco al nome del livello e nella parte degli strumenti della timeline faccio in modo che compaia la colonna track matte questa qui se per caso la colonna track matte non è visibile la potete far comparire cliccando sul secondo pulsante qui nell'angolo in basso a sinistra cliccate più volte finché non compare oppure nel caso fosse presente il bottone toggle switches mode cliccate fin quando non vi compare la colonna track matte bene adesso che abbiamo messo in evidenza la colonna track matte andiamo dove c'è la fotografia che ci interessa in corrispondenza della colonna track matte c'è un menu con evidenziata la voce non ma se noi apriamo questo menu e attiviamo la prima voce alfa matte vedremo che succederà una cosa particolare quindi attivo questa voce e succede che la fotografia viene ritagliata esattamente con la forma dell'ellisse che sta al livello superiore ora qui nella timeline l'ellisse è spento se andiamo a vedere l'occhio qui a sinistra del livello ellisse l'occhio è spento e infatti io non lo vedo più ma la fotografia che sta al livello sottostante usa l'ellisse che sta sopra come maschera questa relazione particolare fra i due livelli fra la fotografia e l'ellisse è stata creata appunto quando ho attivato questa voce alfa matte due livelli che sono collegati da questa relazione particolare si riconoscono dal fatto che a fianco ai nomi a sinistra ci sono questi due simboli la fotografia che è ritagliata ha un simbolo con un pallino nero mentre l'ellisse che viene usato come maschera ha un simbolo con un pallino bianco quindi tra i due c'è una relazione particolare la fotografia si fa ritagliare dal livello che sta sopra adesso chiudo il livello dello shape layer per avere più spazio è importante che l'oggetto che ritaglia la fotografia si trovi proprio sopra la fotografia se io per esempio lo prendo lo shape layer e lo sposto in un altro livello al livello più basso per esempio adesso la fotografia non trovando più niente sopra di sé non è più ritagliata è tornata tutta intera e quindi per poter ritagliare devo riportare lo shape layer sopra la fotografia bene adesso facciamo qualche paragone fra i due metodi per esempio se io volessi spostare la maschera 1 sappiamo che per spostarla da dove si trova bisogna usare lo strumento selezione fare doppio clic sul contorno della maschera a questo punto io posso spostare la maschera allargarla stringerla ruotarla eccetera eccetera mentre invece per quanto riguarda la maschera dell'altra fotografia essendo un livello se stante lo posso semplicemente prendere e spostare senza bisogno di fare operazioni particolari posso ingrandirlo rimpicciolirlo fai tutto quello che voglio lo manipolo come fosse un livello qualsiasi quindi da questo punto di vista sicuramente più semplice da gestire torniamo alla maschera semplice la maschera semplice per esempio ha quattro proprietà a parte la forma ha le proprietà per esempio di sfumatura cioè se aumento la sfumatura del bordo della maschera aumenta la sfumatura del ritaglio della prima fotografia per quanto riguarda la seconda fotografia non c'è una proprietà per sfumare il contorno del livello dovrei applicare un effetto di sfocatura direttamente allo shape layer cioè lo faccio rapidamente nel menu effetti potrei aggiungere un effetto della famiglia blur per esempio fast blur e aumentare la quantità di sfocatura praticamente io ho sfocato l'ellisse e quindi sfocando l'ellisse sfoco anche il ritaglio sulla fotografia sottostante quindi se volessi potrei ottenere la stessa cosa seleziono l'effetto fast blur nella finestra e lo butto perché non mi serve in questo caso nella maschera semplice nella foto 1 c'è l'opacità posso abbassare l'opacità della maschera se volessi abbassare l'opacità anche sulla maschera della foto 2 dovrei selezionare lo shape layer evidenziare l'opacità cliccando il tasto t e basta che io abbasso l'opacità dell'ellisse e si abbassa anche l'opacità del ritaglio e per l'espansione beh questo è semplice se aumento l'espansione della maschera 1 per la prima foto l'equivalente per lo shape layer non è nient'altro che aumentare chiaramente la scala quindi basterebbe evidenziare la proprietà scala ha in questo caso naturalmente dovrei stare attento a mettere l'anchor point evidenzio lo strumento move anchor point metto l'anchor point al centro dello shape layer e poi posso aumentare la scala diminuirla che è un po' come aumentare diminuire l'espansione di una maschera semplice quindi la situazione che io ottengo con una maschera semplice la posso ottenere anche con una maschera di livello un'altra cosa la maschera della fotografia 1 ha la possibilità di essere invertita se io attivo il bottone inverted e praticamente uso la maschera per bucare la fotografia per quanto riguarda invece la maschera di livello per ottenere l'inversione della maschera devo qui nella colonna track matte al posto di alfa matte devo usare alfa inverted matte e quindi utilizzo il livello che sta sopra la fotografia come maschera invertita quindi anche in questo caso c'è un equivalente anche per le maschere di livello ma incominciamo un po' a vedere perché può tornare soprattutto utile l'uso delle maschere di livello ora io elimino tutto il contenuto della composizione seleziono tutto e elimino tutto riaggiungo la composizione un'altra fotografia magari una città di new york diminuisco la scala eccola qua la prima cosa che vi faccio notare che io posso usare come maschera di livello qualsiasi tipo di oggetto prima ho usato uno shape layer perché è comodo e posso dargli la forma che voglio però posso usare anche un oggetto che ho importato da fuori potrei usare una grafica per esempio questo disegno di un fiore adesso io lo metto sopra la fotografia alla fotografia attivo di nuovo la voce alfa matte e che cosa è successo che la fotografia viene ritagliata dall'oggetto che sta sopra io vedo la fotografia lì dove il disegno esiste e dove il disegno è trasparente anche la fotografia diventa trasparente ok adesso disattivo di nuovo la maschera di livello nella fotografia e elimino il disegno del fiore adesso creo un nuovo livello con lo strumento testo scrivo un testo per esempio motion graphics lo riposiziono sopra la fotografia magari lo ingrandisco un po' di più la parola motion magari la ingrandisco ancora di più e riaggiusto il tutto in modo tale che il testo copra una porzione abbondante della foto che sta sotto adesso nella foto sottostante di nuovo riattivo la voce alfa matte nella colonna delle maschere di livello e cosa succede che la fotografia viene ritagliata con la forma delle lettere per quanto riguarda il testo oltre a utilizzare proprio il testo come parole lettere spesso questa soluzione torna comoda quando usiamo delle font che non sono formate da lettere ma sono create a partire da delle forme vi faccio subito un esempio elimino di nuovo tutto il contenuto della composizione aggiungo questa volta una fotografia di una texture di una griglia metallica e utilizzo come testo questa volta una font che non è formata da lettere ma da forme tipo questa e usando la lettera t con questa particolare font ho praticamente creato un profilo che sembra quello di uno stemma adesso io posso usare questa forma per ritagliare la fotografia che sta sotto quindi in corrispondenza della texture della griglia metallica attivo la voce alfa matte e quindi questa griglia metallica viene ritagliata con la forma di uno stemma grazie al fatto che qualsiasi oggetto può essere usato per ritagliare un livello se siete interessati anche voi a recuperare un po' di queste font fatte di forme vi consiglio di andare su uno dei siti più famosi dove potete scaricare le font gratuitamente che è questo da font ne esistono anche altri per esempio la font che ho usato prima è una di queste font qua torniamo in After Effects adesso però vediamo cosa succede quando entrano in gioco le animazioni di nuovo butto via tutto e riaggiungo di nuovo un paio di fotografie per farvi capire la differenza tra i due modi di mascherare di nuovo aggiungo le due foto simili una a destra e una a sinistra ora la prima foto a sinistra la ritaglio direttamente con una maschera ellittica quindi prendo la forma ellissi e taglio di nuovo la prima foto e disattivo tutti i livelli in modo tale che adesso con la forma ellittica creo uno shape layer e lo disegno qui sopra la seconda foto poi devo mettere questa seconda forma sopra la fotografia che voglio tagliare quindi in questa situazione qua chiudo anche il livello alla seconda fotografia attivo la voce alfa matte e ho ottenuto la stessa cosa che avevo sulla prima foto adesso sulla prima fotografia faccio un'animazione sulla scala quindi la seleziono clicco il tasto S per evidenziare la proprietà scala e voglio che al tempo zero la scala sia un filo più piccola così accendo l'orologio e dopo un secondo voglio che la fotografia sia un po' più grande quindi un piccolo zoom diciamo così faccio una preview e questo è il risultato la fotografia e il ritaglio insieme si ingrandiscono adesso faccio la stessa cosa anche sulla seconda foto la seleziono, sposto l'anchor point più o meno qui al centro del volto e faccio in modo che al tempo zero S scala sia un po' più piccola magari ricentro la fotografia un po' più piccola ancora così e accendo l'orologio dopo un secondo circa la foto si ingrandisce magari spostiamo l'anchor point un po' più in alto così si ingrandisce verso il basso ok, faccio una preview il risultato come potete vedere è diverso cioè l'animazione che io ho fatto sulla foto 1 agisce anche sulla maschera perché la maschera è incorporata nella fotografia mentre nel secondo caso essendo la maschera un livello a parte l'animazione sulla scala della seconda fotografia non agisce sulla scala dello shape layer che viene usato come maschera quindi il ritaglio rimane fermo e la foto si ingrandisce questo è un esempio molto banale, semplice però questo fatto che il livello che viene tagliato e la maschera che lo ritaglia sono due elementi indipendenti uno dall'altro permette di fare animazioni molto più elaborate riprendo un attimo in mano l'esempio della fotografia ritagliata dal testo e applico questo concetto a quella fotografia quindi butto via di nuovo tutti quanti i livelli rimetto la fotografia della città riduco la scala applico di nuovo un testo uso una font con caratteri normali e scrivo di nuovo motion graphics bene di nuovo ingrandisco il testo sistema un po' e attivo la maschera di livello per la fotografia seleziono la foto nella colonna track matte attivo la voce alfa matte bene adesso questa volta faccio un'animazione sulla scritta e in questo caso sulla posizione quindi seleziono la scritta clicco il tasto P e voglio che al tempo 0 la scritta sia fuori dall'inquadratura a destra bene accendo l'orologio e dopo 3 secondi posto la fotografia fuori dalla parte opposta e se faccio una preview vedo che la fotografia sta ferma magari metto lo sfondo nero anziché la scacchiera bianca e griglia così si nota la differenza quindi io vedo la scritta che in questo momento funziona da maschera che si muove indipendentemente dalla fotografia che invece sta ferma ma nello stesso momento in cui la scritta passa io posso fare anche un'animazione diversa sulla fotografia e per esempio in questo caso lavoro ancora sulla scala quindi seleziono la foto attivo l'orologio al tempo 0 in modo che parta con la grandezza che ha adesso e al termine dell'animazione della maschera quindi mi allineo col secondo keyframe della maschera faccio in modo che la fotografia lo vedete qua fuori si allarghi un po' di più faccio partire la preview mentre la maschera passa e ritaglia la fotografia nello stesso momento sotto la fotografia si sta ingrandendo quindi due animazioni diverse combinate sotto forma di maschera mi permettono di ottenere questo effetto qui che sarebbe praticamente impossibile ottenere usando le maschere semplici mentre invece con il sistema delle maschere di livello come avete visto in un attimo sono riuscito a creare questa animazione che è già abbastanza complessa bene con questo esempio finale ci fermiamo qua e quindi ci vediamo alla prossima ciao